E' con grande piacere che la puntata di Start di oggi è dedicata a un'importantissima realtà italiana che ha un cuore toscano, ossia la Nuova Solmine. Qui ai nostri microfoni il presidente, l'ingegner Luigi Manzi. Innanzitutto ben trovato ingegnere e grazie per la vostra accoglienza. Grazie a voi e ben trovati anche a voi. Speriamo che dal nostro colloquio venga fuori un'immagine che sia un'immagine quella più consona alla vera realtà di questa impresa che tutto sommato rappresenta un qualcosa di fondamentale per la provincia di Grosseto ma anche per tutta l'Italia e non solo. Percorreremo all'interno di questa puntata la storia di questa azienda, il suo percorso. Racconteremo poi ovviamente le sfide dell'oggi insieme all'ingegner Manzi che è protagonista di questa storia insieme alla sua famiglia. Allora ingegnere, partiamo proprio dall'inizio, dalla storia. L'individuazione di questa area, da dove nasce questa storia della chimica. Partiamo proprio da lì. Guardi, quest'area si chiama area nord della provincia di Grosseto e insiste sulle colline metallifere. Colline metallifere da sole esplicano per quale motivo è nata questa realtà. Le miniere hanno caratterizzato per secoli l'attività in quest'area. Nei tempi recenti la pirite, che è il minerale caratteristico delle miniere, determinò nel 62 la nascita dell'impianto di Scarlino che era un impianto con una tecnologia Montecatini molto importante che sfruttava le pirite in senso integrale. Cioè le pirite che sono composti da ferro, zolfo e energia si sfruttava tutto nel senso che la base ferro diventava pellets destinate all'industria siderurgica. Lo zolfo veniva fatta, veniva durante il processo di combustione, generava acido solforico e nel processo di combustione si generava anche un'energia. Questa realtà industriale quindi diventava un qualcosa di significativo che sfruttava integralmente il prodotto della zona. Con la crisi dell'industria siderurgica entrarono in crisi le miniere. Le miniere furono naturalmente oggetto anche di meccanizzazioni, di interventi strutturali che potevano in qualche maniera determinare una migliore economicità. Nella realtà questo non fu possibile. Io come ingegnere minerale ho partecipato alla fase finale dell'industria mineraria e si avviò un processo di chiusura doloroso perché chiaramente fu un momento nel quale si dovette eliminare un sacco di forza di lavoro. In parte fu alleviato questo processo da una reindustrializzazione che fu fatta nella zona e che fu condotta dall'ENI. Io ero uno dei dirigenti, ero l'amministratore delegato destinato a questa operazione per niente simpatica, molto impegnativa. e contemporaneamente si avviò il processo di chiusura delle miniere. Durante il processo di reindustrializzazione e di chiusura rimase una realtà che era diventata chimica perché con la chiusura delle miniere si avviò anche un processo di trasformazione di questa realtà industriale in quanto i forni di pirite furono eliminati e si adottorarono forni che potessero bruciare solo la fase zolfo. La fase zolfo è lo zolfo che veniva dai processi di raffinazione del petrolio, che viene tuttora dai processi di raffinazione del petrolio. In questo modo questo stabilimento nel quale noi stiamo in questo momento diventò da stabilimento metallurgico stabilimento chimico. E come ultima fase del processo di chiusura del comparto l'ENI avviò la dismissione anche dell'impianto chimico di Scarlino cercando di affidarlo a operatori che fossero in grado di poter assicurare la continuità. Fu allora che sia io, che ero l'amministratore delegato della parte chimica e il liquidatore della parte mineraria, insieme ad altri due miei amici che sono tuttora qui con me, decidemmo di partecipare a quella gara di acquisizione che era stata indetta da l'ENI per potersi disfare del complesso chimico in questa zona. Ci furono eventi piuttosto complessi e questo avvenne 25 anni fa. Quest'anno noi festeggiamo il venticinquesimo anno e i competitors cominciarono in una fase non impegnativa ad essere molteplici. Nella realtà nella fase impegnativa si rimase in due. Italia Sicurezza, che era, vorrei dire fra virgolette un prestanome, dell'Antioxide, che era la società che più aveva interessi ad avere l'acquisizione della società in quanto la maggiore cliente, perché prendeva la maggior parte dell'acido e delle utilities. Ma aveva un problema, non voleva interessarsi delle bonifiche che in quel momento erano l'oggetto su cui si era concentrata massimamente l'attenzione delle istituzioni. Le istituzioni ovviamente non erano contente del fatto che l'ENI abbandonasse e si concentrarono sulle bonifiche ambientali che potevano essere sicuramente un problema serio. Noi fondammo la Solmar. Noi tre fondammo la Solmar con un capitale di 21 milioni di lire non interamente versato. perché noi potremmo immaginare che tre dirigenti che avevano sempre e soltanto lavorato anche all'acremente all'interno della società non potevano certo contare su fondi e su ricchezze, su grandi capitali. Durante il processo di gara, che fu una gara senza risparmiarci colpi, si arrivò al momento in cui la parte Italia Sicurezza non accettò di occuparsi delle bonifiche e di prendere tutte le responsabilità delle bonifiche e noi invece con un po' di incoscienza anche decidemmo che quella era il momento la fase vincente la fase vincente e però per poter arrivare all'acquisizione quindi per poter avere le sostanze finanziarie perché il processo di management buyout fu in un primo momento appoggiato da una società che opera nel campo del management buyout poi le analisi che vennero fuori furono analisi che determinarono che l'acido solforico non avrebbe avuto un futuro francamente io quando sentivo queste cose non potevo assolutamente essere d'accordo con queste visioni del tutto finanziarie fra virgolette non imprenditoriali e fu così che noi ricorremmo allora all'aiuto di alcune banche e non le voglio raccontare che cosa ha significato per noi contattare tutte le banche che naturalmente vedevano tre persone che magari erano professionalmente valide ma finanziariamente poco solide fu così che allora intervenne con noi un quarto socio che noi chiamiamo il quarto fratello e fu col suo intervento che noi riuscimmo ad avere la finanza necessaria per poter arrivare all'acquisizione l'acquisizione fu poi in un momento molto bello nel momento in cui molto bello e molto impegnativo perché ci fu un processo dal quale lei passa da impiegato sia pure di alto livello al responsabile responsabile delle sue azioni sia per sé stesso che per tutti quelli che sono insieme e questo è un momento di maturazione importantissimo naturalmente ereditammo acquistammo più più correttamente una realtà che quotava circa 40 milioni 80 40 milioni in euro 40 milioni di fatturato e 4 milioni di capitale in euro noi oggi abbiamo un gruppo il gruppo Solmar è diventato una realtà che ha fattura circa più di 120 milioni in questo momento e ha 40 milioni di capitale ha diversificato ha acquisito oltre che lo stabilimento di Scarlino altre realtà industriali lo stabilimento di Serravalle Scrivia ha fondato una società che si occupa di detergenza ma non solo ha diversificato la produzione attraverso la vendita di acidi diluiti zolfo soda abbiamo poi in realtà che si occupano di logistica siamo presenti nel Mediterraneo nell'Adriatico a Basto a Barcellona in Francia a Marsiglia stiamo il nostro mercato si è espanso e questo significa che abbiamo lavorato per in 25 anni per creare una realtà che oggi nelle attività chimiche a capitale italiano rappresenta la è in 44esima posizione tenga presente che le aziende chimiche sono circa 2500 in Italia quindi significa che anche se siamo una realtà media siamo una realtà significativa tanto più che il nostro prodotto che alcuni ragazzi definirono senza futuro non solo ha un futuro molto lungo ma è fondamentale per la produzione per il comparto chimico in generale che la prima noi forniamo come materia prima il nostro prodotto nel campo dei detergenti nel campo dei pigmenti nel campo dei fertilizzanti delle materie plastiche un po' in tutta la chimica a valle è presente l'acido solforico quindi noi attualmente abbiamo circa un portafoglio di 800.000 noi produciamo 660.000 tonnellate di cui 100.000 di oleum oleum è un prodotto è un acido solforico concentrato al 106% cioè ha disciolto all'interno una componente SO2 più arriva la concentrazione arriva al 106 107% e questo si usa nelle solfonazioni in tutti i processi della plastica quindi l'acido solforico è costitutivo ed è importantissimo nel processo di industrializzazione italiano e non solo perché il nostro mercato poi si è espanso in Spagna in tutti i bacini del Mediterraneo e quando il prezzo lo consente siamo in Brasile in Cile per anni siamo stati a Cuba abbiamo fornito un'azienda che aveva la licificazione del nickel a Cuba e per una docina d'anni abbiamo fornito finché poi questa ditta ha costruito un impianto specifico di produzione di acido solfori in questo momento quindi noi festeggiamo i nostri 25 anni con un progetto che ci impegna per i prossimi 25 quindi ritengo che noi abbiamo veramente creato una realtà industriale facendo una rivoluzione importante perché la Solmine era percepita come lo stabilimento di Scarlino la Solmine era percepita come l'ultima fase di un processo minerario in chiusura ecco la rivoluzione è questa è la prima fase di un processo chimica con prospettive questa è la vera realtà poi all'interno di una della nostra realtà produttiva abbiamo lavorato moltissimo sia sotto il profilo impiantistico 25 anni di processi di implementazione della fase impiantistica rincorrendo di volta in volta tutte le BAT e tutti i processi tecnologici che potessero mettere all'avanguardia i nostri impianti e questo è capitato perché abbiamo i nostri impianti sono capital intensive qui si lavora tanto si guadagna poco però si lavora e capital intensive significa che tutti gli anni ogni due anni noi facciamo manutenzioni molto importanti ed è questa è una realtà che distribuisce circa 9 milioni di stipendi nei territori in cui è presente complessivamente fa investimenti per 10-15 milioni all'anno ha prestazioni di manutenzione per circa una decina di milioni questo significa che siamo una società promotrice dello sviluppo del territorio in campo industriale e artigianale quindi anche questo è un'altra è un altro punto significativo della nostra presenza nel territorio e non solo noi abbiamo circa 200 persone dirette più altrettanti che sono tutti gli indiretti che lavorano intorno collaborano con noi siamo stati i primi in Toscana ad avere la bandiera EMAS siamo stati 54esimi in Italia partecipiamo a tutte le associazioni al di là di Confindustria ma a tutte le associazioni del nostro campo siamo stati sempre attivi in Europa con i produttori di acido solforico perché noi in Europa rappresentiamo intorno al 5% della produzione europea non siamo pochi pensi che la produzione mondiale di acido solforico va intorno ai 200 milioni di tonnellate noi ne commercializziamo circa un milione 800 mila cioè nel mondo siamo significativi siamo piccoli ma significativi è una parte importantissima è che noi produciamo energia elettrica a Scarlino 120 milioni di kilowattora senza mandare CO2 in atmosfera perché noi bruciamo zolfo e questo è molto importante perché può avviare un processo di in questo momento in cui si parla di energia tutti si sono ricordati che per molti anni è stato trascurato tutta la politica energetica tutta la politica industriale italiana ecco noi quindi anche in questo campo stiamo sviluppando percorsi che possono essere percorsi di sviluppo per la nostra società ovviamente siamo presenti nella infeder chimica e abbiamo l'abitudine di essere sempre presenti ai massimi livelli questo proprio per il nostro spirito di collaborazione per poter cercare di essere significativi per otto anni sono stato anche vicepresidente di feder chimica con la delega per i rapporti sindacali e ho partecipato a altri contratti le sa che nel comparto chimico farmaceutico i lavoratori sono circa 180 mila e quindi è stata un'esperienza veramente molto formativa molto bella ovviamente ora faccio soltanto parte del consiglio di presidenza per compiuto mandato però devo dire che l'esperienza nell'associazione è stata un'esperienza effettivamente molto importante in questo momento noi ricopriamo questi ruoli non soltanto io ma mia figlia e i miei colleghi siamo sempre attivi in questa cosa e questo è servito a noi anche per poter respirare l'area nazionale dell'industria per non essere periferici anche nel modo di concepire l'azienda cioè l'azienda non è soltanto un momento che si vive all'interno della fabbrica che è uno dei momenti importanti ma l'azienda è vive all'interno del mondo perché gli stakeholders se uno allarga gli interessi sono veramente dispersi nel mondo sono le istituzioni sono coloro i quali ci stanno intorno e cooperano sono i nostri clienti il mondo imprenditoriale che è nostra concorrenza è un po' noi vogliamo rapportarci e vivere la realtà sempre proiettati verso il futuro e questo ci ha portato ad avere anche all'interno dei nostri impianti un processo di intanto di turnover e anche di modernizzazione del modo di concepire il lavoro una delle frasi mie che io preferisco si definiva l'acido solforico un prodotto obsoleto ora un prodotto è un prodotto non è un prodotto si usa quindi non è è una contraddizione chiamarlo obsoleto non è l'acido solforico un prodotto obsoleto esistono modi obsoleti di produrlo e questa è la parte importante noi abbiamo contrastato il modo obsoleto di produrlo e quindi all'interno delle nostre realtà produttive voglio dire che sono veramente orgoglioso di pensare che ci siano della gente che è fiera e contenta di lavorare con noi del resto guardi noi abbiamo un confronto sindacale che è semplicemente costruttivo che si è dimostrato molto più costruttivo nel momento tragico in cui la pandemia ha investito tutto il mondo bene qui noi abbiamo adottato immediatamente dei dei protocolli che devo dire poi sono stati in qualche maniera replicati dai protocolli ministeriali sulla sicurezza e qui abbiamo avuto veramente una dimostrazione di maturità di tutta la forza che lavora con noi di tutti i nostri collaboratori noi non ho dubbi che noi siamo l'azienda più certificata d'Italia abbiamo tutte le certificazioni che riguardano la qualità la sicurezza il l'etica professionale recentemente abbiamo fatto il nostro primo rapporto di sostenibilità bene la matrice che ci caratterizza mette al primo posto la sicurezza del lavoro questa è una cosa di cui veramente è una delle bandiere del nostro gruppo del nostro gruppo quindi noi cerchiamo di di essere significativi di creare opportunità con visione lavoro e sviluppo queste sono poi le nostre tre caratteristiche fra l'altro abbiamo partecipiamo anche un'azienda vinicola abbiamo l'abbiamo partecipato perché per amicizia vorrei dire però riteniamo che sia un prodotto importante sul quale possiamo agire managerialmente perché anche in quelle aree il supporto manageriale cioè una visione l'industrializzazione di un processo agricolo è un qualcosa di significativo cioè la mentalità di industrializzazione dei processi e del controllo dei costi e dell'analisi e dell'indagine dei mercati è un qualcosa che è trasversale e si applica molto bene anche in un'industria vinicola ingegnere approfittando della sua presenza io vorrei però fare adesso un passo indietro suggerito un po' da quello che vedo alle mie spalle che ci riporta al mare ci riporta ad Amalfi che è la sua il suo luogo natale lei è nata a pochi metri dal mare allora io vorrei raccontare un po' la sua infanzia e poi come e perché ha scelto questo percorso di studi e come poi è arrivato qua in Toscana io sono nato ad Amalfi da una famiglia in cui la famiglia di mia madre era nel settore turistico mia nonna aveva un albergo a quattro metri dal mare e io sono nato in una di queste camere però mio padre invece aveva una era un amministratore è stato venticinque anni sindaco a Ravello la zona è una zona di grandissimo pregio dal punto di vista turistico e però non offre la possibilità a chi vuole distaccarsi dall'ambiente turistico per seguire le proprie inclinazioni non offre la possibilità di restare sul posto quindi a 17 anni sono andato a studiare al Politecnico a Torino e nei momenti in cui c'era la forte migrazione del sud verso il nord e non eravamo ben visti come meridionali anche se il Politecnico di Torino al 50% era rappresentato da gente che veniva dal sud poi ho seguito la mia curiosità e la mia inclinazione erano le miniere e ho seguito la mia inclinazione il mio modo di pensare anche in contrasto con la mia famiglia perché nelle nostre zone non c'era niente di più lontano di un'attività mineraria anzi devo dire che mio padre era fortemente preoccupato del fatto che il figlio del sindaco di Ravello fosse andato da finire in una miniera bene io sono andato come prima esperienza sono andato nei sali potassici in Sicilia come giovane ingegnere lì ho conosciuto mia moglie che non era non è siciliana però la famiglia il babbo era un impiegato che lavorava nella stessa realtà in cui lavoravo io ci siamo conosciuti ci siamo piaciuti ci siamo sposati e poi dopo due anni la Montecatini mi trasferì nel comparto toscano e così io il 2 novembre del 72 lei non era ancora nata sono arrivato a massa marittima e qui ha fatto tutto il percorso delle miniere nel 73 mi sono sposato e ho fatto tutto il percorso delle miniere ricoprendo vari gradi di volta in volta e mia moglie mi ha sempre seguito nel 90 quando ormai era già in atto la crisi delle miniere sono venuto a fare prima il direttore a Scarlino e dopodiché sono stato per 4 anni in Sardegna alla guida del più grande impianto metallurgico che c'era in Europa e che c'è tuttora perché è Glencore dopo 4 anni sono ritornato qui come liquidatore del comparto minerario e amministratore del comparto chimico e qui si innesta il mio racconto che le ho fatto prima che riguarda l'attività imprenditoriale un'altra domanda ingegnere nella storia che lei in maniera così diretta trasparente ci sta ci sta raccontando emergono degli elementi che sono come dei fili conduttori innanzitutto mi verrebbe da dire la curiosità il coraggio perché lei lascia giovanissimo la sua terra si trasferisce per studi a Torino un interesse un'idea quello delle miniere fa sì che diventi un po' il filo conduttore del suo lavoro però poi coraggio di nuovo quando c'è quel cambio complessissimo della storia industriale di questo territorio che lei aveva intuito e credendoci fino in fondo perché ovviamente non era assolutamente una cosa banale e lei prima ha detto un elemento che ci terrei vorrei approfondire questo anche alla luce dei tanti giovani che seguono i nostri format lei ha detto mi sono trovato in un momento in cui ho scelto di cambiare completamente prospettiva da dipendente anche se di alto livello dirigente sono diventato imprenditore e come recita il nostro codice civile imprenditore è colui che si prende il rischio di impresa lei si è preso sulle sue spalle il rischio di scommettere sul futuro guardi che questo l'imprenditore è una figura molto complessa e secondo me non diviene attraverso una formazione ci si nasce almeno al 70% all'80% poi ci sono le condizioni che determinano la scelta imprenditoriale ma è un po' come il Calabrune il Calabrune non conosce le leggi della fisica ma vola se conoscesse le leggi della fisica non volerebbe perché il peso è troppo grande non lo può sostenere bene l'imprenditore non conosce che guai va a cui va incontro però è un mestiere eccitante è un mestiere che ovviamente richiede coraggio anche un po' di incoscienza però richiede coraggio guardi mentre io io soffrivo moltissimo il fatto di essere impiegato anche di alto livello perché a volte le visioni che uno ha nell'impiego si possono scontrare con le visioni diverse di colui il quale è sopra di te e quindi poi ti guida e le devo dire che spesso masticavo amaro tutte le volte che mi veniva detto ma tu butti il cuore al di là dell'ostacolo invece ogni tanto bisogna buttarcelo perché poi così uno lo va a ritrovare e un giorno mi colpì una frase di Giovanni Parillo che era il presidente dell'Eni Risorsa in quel momento e col quale addirittura siamo ancora in rapporti lui è è passato da da giovane a diversamente giovane mi ha detto che io sono ancora giovane fra poco diventerò diversamente giovane però Giovanni Parillo un giorno in una riunione di dirigenti dell'Eni Risorse poiché si parlava l'Eni Risorse era di per sé un'azienda che era nata per fare una sistemazione chiamiamolo fra virgolette che voleva dire dismissioni e riallocamenti delle delle attività lui disse se voi credete nella vostra attività vendetevi anche il letto ecco questa frase mi colpì infatti io e i miei amici ci siamo impegnati tutto comprese le famiglie però poi nel primo anno eravamo già in grado di poter restituire ovviamente ci vuole un grado di inconscienza ma ci vuole anche una profonda conoscenza di quello che fa perché altrimenti è inconscienza pura e allora va bene quella non serve cioè la professionalità è importante e io devo dire che ringrazio la professionalità che mi è stata data non soltanto dagli studi ma soprattutto dalla scuola Montecatini dalla scuola Montedison dalla scuola Eni sono altissime scuole che ahimè non so se continuano ad esserci sono altissime scuole soprattutto nella fase pratica cioè il contatto con il lavoro io ho imparato moltissimo nel lavoro stando in miniera all'avanzamento l'avanzamento è quel punto in cui finisce la galleria e comincia la roccia e lì devi sapere se devi andare a destra o a sinistra o in centro o in su e il minatore ti scruta il minatore ti guarda e dice voglio vedere questo ingegnerucolo cosa ne sa e ti fa l'esame tutti i giorni ecco gli esami si fanno tutti i giorni questo naturalmente vale anche in qualsiasi tipo di attività e quindi è una sfida continua e da questo punto di vista è eccitante la fase imprenditoriale devo dire che mi ha spostato le lancette dell'orologio del tempo perché io sono ringiovanito al momento in cui sono diventato imprenditore che poi la fase imprenditoriale è una maturazione è ovvio che si comincia non si sa bene che cosa si fa si sa che bisogna restituire il finanziamento alle banche bisogna avere la responsabilità di tutte le persone che si sono fidate e che lavorano con te e che devi essere in grado di essere una persona che sia che che dia tutto quello che ha ricevuto al massimo grado per poter dare sviluppo e per dare prospettive questo è quello che io penso questo è quello che ha realizzato l'ingegner Manzi non solo ovviamente non solo non solo insieme a tutto il gruppo che con lui ha dato vita a questa storia che noi vi abbiamo raccontato in questa puntata dove ribadisco gli elementi del coraggio dell'etica del sguardo verso il futuro hanno tracciato questa strada maestra in cui in 25 anni questa azienda e il territorio intorno che vi lavora ha compiuto questa storia così importante a livello industriale internazionale e come diceva l'ingegnere siamo pronti per i prossimi 25 quindi le vele sono ben tirate per procedere avanti ingegnere io la ringrazio per la sua ospitalità per questo bel racconto proprio senza filtri e diretto di questa storia di vita e storia di impresa proprio questo è il pay off del nostro programma perché dietro le grandi storie di impresa italiana ci sono sempre delle storie personali delle storie di famiglia delle storie di uomini che hanno deciso appunto di portare avanti un progetto imprenditoriale quindi innanzitutto complimenti ovviamente ci rivedremo per raccontare piano piano i prossimi 25 sì sì io ringrazio lei intanto e l'associazione che ha voluto sapere qualcosa della nostra esperienza di me in particolare fra l'altro in questi 25 anni abbiamo deciso di organizzare una pubblicazione e quindi penso che fra pochi mesi questa sarà pronta così le farò omaggio così potrà potrà dedicare avere la curiosità di sfogliarla ma noi ritengo che è estremamente eccitante questo tipo di lavoro se uno ci crede se uno è dedito al lavoro allora ogni realizzazione anche gli insuccessi servono per poter formare il carattere e andare avanti poi la fortuna ci ha assistito che la fortuna ci vuole sempre insieme alla professionalità al lavoro la visione e lo sviluppo e quindi noi siamo qui e sicuramente prendo impegni con lei e fra 25 anni ci ritroveremo qui a raccontarla grazie grazie davvero di cuore all'ingegner Manzi a tutta la nuova Solmine questo è il racconto all'interno del nostro format Start una puntata densa di contenuti densa di valori una grande storia imprenditoriale italiana grazie ovviamente a voi per l'attenzione che ci avete dedicato a Grazie a tutti.